Ciao ragazzi, ciao a tutti! Allora, questa mattina è arrivata una mail della mailing list di Canon per annunciare l'annuncio della nuova ammiraglia che dovrebbe uscire a breve, non si sa ancora quando. Intanto scusate, siamo tornati ai vecchi tempi quando registravo con la webcam del portatile, ma sono a casa, però volevo fare già subito questo video per pubblicarlo al più presto, anche se oggi ho già pubblicato un video. Dunque, come dicevo, finalmente Canon comincia a fare sul serio, perché sono ancora rumor, quindi non c'è nessun specifico documento che attesti quali sono le caratteristiche di questa fotocamera, ma presumibilmente la nuova EOS R5 dovrebbe avere un sensore KMOS completamente ridisegnato, completamente ridisegnato da zero per andare ad integrarsi con questa fantastica fotocamera che dovrebbe essere veramente qualcosa di particolarmente innovativo. Stabilizzatore d'immagine, 8 stop, sto leggendo per piano 8 stop con le lenti stabilizzate, quindi la possibilità di stabilizzare sia il sensore che l'obiettivo contemporaneamente, 12 fps con l'otturatore meccanico, 20 fps con l'otturatore elettronico. Teniamo presente che stiamo parlando comunque di una full frame, quindi ecco che, insomma, sono caratteristiche notevoli queste. Doppio slot, ma ancora non ci è dato sapere quali tipi di memorie. Niente, touch bar, l'antolto da quello che doveva essere una mega invenzione, incredibile valore aggiunto dell'EOS R è stato tolto, evidentemente non ha avuto questo grandissimo successo. Batteria, più performante, nuova ma retrocompatibile con la meravigliosa LPE6, che credo che sia la miglior batteria per fotocamere mai realizzata. Video, a quanto pare si parla di un 8K 30p, 4K 120p, veramente allucinante, Wi-Fi 5 GHz, con la possibilità di integrarsi con un nuovo sistema cloud offerto appunto da Canon, ma staremo a vedere. Qui sto guardando sul sito di drcommodor.it, che aveva già rumoreggiato, però diciamo che si parlava dell'annuncio il 13 febbraio, in realtà questo annuncio c'è stato, ma è un annuncio riguardante l'annuncio, cioè a breve annunceremo questa nuova Canon. Caratteristiche che la fanno decisamente più accattivante di una, uno di X-Mark III appena uscita. È veramente molto interessante. Quanto costerà questa fotocamera? Chi lo sa, non costerà sicuramente poco. Io presumo che passerà molto tranquillamente i 4.000 euro. Processore nuovo, sensore nuovo, 8K, sono caratteristiche veramente elevatissime. Con questa iOS R5, questo 5, a me piace moltissimo, perché è un 5 che richiama molto una serie che penso sia forse la più fortunata di casa Canon, che è la serie 5D, che è cominciata con la prima 5D, una bellissima fotocamera, che ha raggiunto probabilmente il suo apice di popolarità e di mito con la 5D Mark II, bissato da una 5D Mark III, veramente meravigliosa dalle caratteristiche e dalla praticità fantastiche. Poi invece, secondo me, un pochino scemando, ma rimane comunque una meravigliosa fotocamera, la 5D Mark IV, ma che non ha bissato ovviamente il successo della versione 2 e versione 3. Quindi questa R5, secondo me, si rifà abbastanza a un mito che è appunto quello della serie 5D. Benissimo, e sono proprio curioso di vedere cosa succederà. Allora, Nikon non può rimanere a guardare, Canon sta facendo passi avanti, Panasonic si sta imponendo, alcuni altri brand stanno soccombendo, Fujifilm si è ricavata una ottima nicchia. Insieme a questa Canon R5 verranno presentate anche alcune lenti che andranno ad aggiungersi alla roadmap attuale di Katakanon. 24-105-35-56 stabilizzato, STM, 100-500 mm, 100-500 mm, ovviamente se parlano di ottica RF, e un 135 mm f1.4 L. 135 mm f1.4 è veramente luminoso, devo dire. Però si rumoreggia anche di una solina più economica, con un sensore a 20 megapixel, una R6, questi sono rumori, quindi Canon non ha ancora annunciato niente, IBIS, 12 fps sul meccanico, 20 fps sull'otturato elettronico, 4K 60p, nuova batteria, la stessa dell'R5, e anche per questa si parla di primavera-estate. Non solo, ma a quanto pare si parla anche di una EOS R7, che dovrebbe essere una piccolina di casa Canon, rimpiazza della serie M, non lo so, la serie M io l'ho sempre apprezzata, sono sincero, non mi è mai dispiaciuta, mancanza di lenti, le lenti che c'erano erano qualitativamente ottime, anzi, le lenti che ci sono, sono qualitativamente ottime, ma non possono competere con determinate altre lenti su sensore APS-C, questo assolutamente non si può discutere. Quindi, che questa EOS R7 APS-C, con un attacco RF, possa andare a sostituire la serie M, boh, chi lo sa? Comunque, molto, molto, devo dire, molto, molto interessante. Vediamo quando questa R5 sarà annunciata, vedremo poi le caratteristiche, quali saranno, perché al momento si può solo speculare, però effettivamente, per quel che riguarda il video, stiamo parlando veramente di una fotocamera veramente eccezionale. Mi interesserebbe sapere anche qual è la Dynamic Range, ovviamente, ricordo quello che ho detto prima, purtroppo il prezzo sappiamo che non sarà tra le fotocamere più economiche. Staremo a vedere, lasciatemi un commento sotto, ditemi cosa ne pensate, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella, se siete qui per la prima volta, date un'occhiata agli altri miei video, questo è un video fatto al momento, se no normalmente sono un pochino più carini, date un occhio anche sotto ai canali Telegram di offerte fotografiche e il mio canale Instagram, vi ho già dato di lasciare un commento, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!